Mi chiedete sempre quanto è lontana la spiaggia? Adesso vi faccio vedere. I teri da mare come al solito vediamo noi. La spiaggia più a Bellarigia Marina è davvero molto bella per le famiglie, le coppie è l'ideale. È molto pulita, c'è una sabbia molto fine, tutte le mattine viene pulita, la sera anche. Ci sono tante attività da fare, dal ping pong al beach volley, non ci sono punti pericolosi, si può andare a fare il bagno tranquillamente, non ci saranno mai problemi di acqua alta. I servizi igienici sono tenuti molto bene, i teri da mare ve li offriamo noi. Abbiamo due ragazzi in albergo che seguono i bimbi sia in albergo che anche in spiaggia, dalle 9 fino alle 11 e mezzo, per cui i bimbi sono davvero molto tranquilli e ben seguiti. Grazie a tutti.